Salve a tutti e benvenuti su Notizie e Gossip, il canale dove vi terremo costantemente aggiornati sulle ultime novità dal mondo del gossip. Oggi discuteremo di uno degli argomenti più discussi del momento, la tumultuosa relazione tra Chiara Ferrani e Fedez. Avete sentito parlare della litigata scoppiata tra i due alla festa di compleanno della piccola vittoria? Ebbene sì, sembra che le tensioni siano ancora molto alte. Mentre Fedez è a Milano, Chiara è volata a Dubai con i suoi bambini. Ma cosa rende così interessante questa vacanza? Beh, le foto postate da Chiara sui social hanno suscitato un vero e proprio putiferio. C'è chi ha notato un dettaglio molto interessante. Al posto della fede nuziale spunta un nuovo anello, niente meno che il Panther de Cartier, un gioiello di lusso dal valore di circa 80.000 euro. Sembra che Chiara non perda occasione per mostrare il suo stile anche durante le difficoltà. Ma non è tutto. Le critiche piovono anche per il suo atteggiamento troppo allegro. Qualcuno ha persino sospettato che dietro quel sorriso ci sia una maschera di disperazione per la fine della storia con Fedez. E non mancano certo i commenti offensivi sul suo corpo. Tuttavia, Chiara non si lascia certo intimorire e ha risposto prontamente agli haters difendendo la sua libertà di essere se stessa. Per quanto riguarda i figli, state tranquilli, sono in vacanza dalla scuola. La vita di Chiara Ferrani è sempre sotto i riflettori, anche quando cerca solo un po' di relax. Ragazzi, cosa ne pensate di questa nuova avventura di Chiara? Fatemelo sapere nei commenti. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e condividere il video con i vostri amici.